Dopo lunghi mesi di studio, il tecnico dell'Ucraina Oleg Blokin sostiene di aver imparato qualcosa su Inghilterra e Francia, ovvero che camminano e sono troppo difensive. Ho imparato molte cose nuove su Inghilterra e Francia, le ho viste giocare molto lentamente e mettere otto uomini in difesa. Insomma, sembrano due squadre molto disciplinate. L'Ucraina è prima in classifica dopo aver vinto con la Svezia, ora c'è la Francia e per Blokin ci vuole un surplus di concentrazione da parte dei suoi. Non dobbiamo pensare alla vittoria ancora, abbiamo vinto solo una gara e se perdiamo le prossime due, tutto andrà sprecato. Venerdì alla Donbass Arena dunque, Ucraina-Francia.